GIOVEDE 25 aprile 2018, ben trovati, nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei giornali. Come sempre l'apertura è dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi che oggi troverete in edicola. Partiamo dall'edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda i residenti delle case che si trovano in via passo della portella rivolta contro gli abusivi delle case. Vedete il titolo, i residenti di via passo della portella minacciano di occupare la prefettura. E poi torniamo alla vicenda dei turisti a Rigopiano, proprio nei giorni di Pasqua, raffica di denunce in arrivo dopo le gite di Pasquetta tra le macerie del resort di Rigopiano di Farindola. Poi le cronache, folle gesto a Montesilvano, vedete di spalla si lancia sotto al treno in corsa e resta illeso, indagini in corso dei carabinieri. Poi Montesilvano ancora, negozi in crisi, commercianti chiedono di riaprire il centro. E poi il Festival dell'Oriente a Pescara Fiere. Poi c'è un'intervista allo scrittore liceale Civitarese che parla dei giaguari abruzzesi. Questi i titoli principali per quanto riguarda l'edizione di Pescara del centro. Andiamo a vedere l'edizione invece di Chieti, Lanciano, Vasto. Abusi su piccoli atleti, casa sequestrata. Il Tribunale ferma la vendita dell'immobile dell'allenatore sotto accusa. E poi vediamo nelle cronache a Chieti, ex IPAB, partono i solleciti per i comuni morosi. E poi a Scerni muore in auto per un malore. Poi lo schianto a Tessa, rifiuti pericolosi, sindaci mobilitati per il caso Ciaf. In alto c'è un richiamo di sport che non riguarda l'Abruzzo ma riguarda il calcio nazionale anche indirettamente però la nostra regione perché parliamo della Roma. La Roma allenata dal pescarese Eusebio Di Francesco. Povera Italia anche la Roma KO battuta ieri dal Barcellona. Niente gol invece 0-0 nel derby milanese tra Milan ed Inter. Andiamo a vedere anche la pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. la prima pagina in particolare. D'Amico dice l'ultimo no al Partito Democratico. Teramo al voto. Il rettore non sono disponibili. E la Lega stoppa ancora. Morra dunque grandi manovre in vista delle elezioni amministrative a Teramo. Vedete la fotonotizia. Prati di Tivo, la stagione scistica, si chiude domenica. Ultimi giorni sulla neve. E poi siamo alle cronache. Pineto, abusi sessuali e pestaggi alla compagna. Arrestato un 48enne. Poi Castellalto prende tre anni per una rapina da 30 euro. Poi Montorio arrestato per l'estorsione ad un pizzaiolo. Vediamo anche l'edizione, la prima pagina dell'edizione del quotidiano Il Centro. L'Aquila, Avezzano e Sulmona, fiaccole della memoria all'Aquila. Questa sera il corteo per ricordare la tragedia del terremoto del 2009. Tasse il 16 aprile tutti in piazza contro la restituzione. L'Aquila, la battaglia con l'Unione Europea. Ancora le cronache dall'Aquila ad Esca Minori, condannato a 20 mesi. E poi incidente a Massadalbe. Parte per sbaglio il colpo di pistola, ferito alla gamba. E poi ci spostiamo dall'Aquila in Valle Peligna a Sulmona. Gasdotto prestosi dal governo. I sindaci frenano. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Si stende sotto il treno vivo. Montesilvani, il ragazzo sdraiato sui binari, attende il passaggio di un treno merci. Un amico filma la scena, il giovane che si rialza dopo la follia. Indaga la polizia ferroviaria. E poi, vedete, ricostruzione, le idee a confronto. Il terremoto nove anni dopo. E poi l'articolo di Spalla. L'approfondimento della prima pagina. Troppi vincoli. Raccolta di firme per uscire dall'area del parco. Siamo a Villa Vallelonga. E poi, in bilico, la fusione nucleare test internazionale a Frascati. L'Abruzzo superato per ora nel concorso da 500 milioni di euro. Questo progetto dell'Enea che vedeva anche l'interporto di Manoppello tra i siti probabili per questo esperimento. Invece è stato aggiudicato a Frascati. Ma l'Abruzzo potrebbe anche fare ricorso. E poi arrivano i primi soldi per le aree di crisi della nostra regione. Vedete questo titoletto più in basso. Andiamo a vedere anche, invece, nella parte alta della pagina, altri richiami di argomenti, di notizie, che ritroveremo all'interno del giornale. Siamo a Pineto. Stupra la compagna, le rompe le costole e le buca un polmone. È stato arrestato un uomo. E poi Lanciano, ricatto Mosex, 34enne, rischia di finire sotto processo. Vedete il titolo in rosso. E poi il titolo che invece riguarda il calcio. Pilon prova Cocco in avanti. L'Aquila successo da playoff. Perché ieri si sono giocate due gare di recupero del campionato di Serie D. Con la vittoria dell'Aquila sul Campobasso ed il successo esterno del Pineto a Fabriano. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano. La città. Vedete il titolo di apertura riguarda la cronaca. Violentata dal compagno ubriaco. Riesce a fuggire di casa dopo una notte da incubo. E lo fa arrestare. E poi l'Africa dell'Istituto Zoprofilattico. All'ipogeo le foto di 16 anni di progetti di ricerca. Vedete l'articolo con corredo di foto nella parte centrale della prima pagina del quotidiano. La città. E poi tenta l'estorsione ad un pizzaiolo. L'attitante albanese arrestato dai carabinieri a Montorio. E poi Teramo al voto. Vedete il magnifico non sarà tra i candidati sindaci. Ovvero il rettore dell'Università D'Amico. E poi la Lega congela la candidatura di Morra di altre 48 ore. Una notizia di ciclismo in basso. Da scienzo vince la Ascoli Loreto e dedica la vittoria allo schiavo. Abbiamo visto le prime pagine dunque dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere invece ora le prime pagine dei quotidiani nazionali. E dico una nazionale che si apre come di consueto con il Corriere della Sera. Consultazioni su Conti e Unione Europea. Ieri al Via gli incontri delle consultazioni. Per meglio dire come giustamente indica il titolo del Presidente della Repubblica. Con i presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico. dal leader di Liberi Uguali Grasso. Aperture al Movimento. E poi vedete la missione di Zuckerberg. Coinvolti 214 mila italiani venduti dati Facebook di 87 milioni di persone. Poi giornata tragica. Ieri in Lombardia tra Brescia e Bergamo. Far West tra le due città. Killer, spari, fughe. Lombardia, terrore. E cinque morti. Andiamo a vedere La Repubblica. Il titolo di apertura riguarda ovviamente la politica come su tutti i quotidiani. Movimento 5 Stelle lega senza intesa al colle. La tentazione subito. Le elezioni. Di Maio, io Premier. A Salvini, ministri più importanti. Martina si candida alla segreteria del Partito Democratico. E poi vedete Putin mediatore. Vedete questa foto tra l'Iran e la Turchia. Così va in scena la Ialta della Siria. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura anche in questo caso riguarda ovviamente la politica. Il PD spinge Di Maio nelle braccia di Salvini che resta incollato a Berlusconi. La prima pagina nazionale del messaggero. Anche in questo caso politica in primo piano. Salvini al colle. Non lascio Forza Italia. Al via le consultazioni da Mattarella. Avete incrociati tra Di Maio e Berlusconi su Palazzo Chigi. E poi vediamo il titolo più in basso. Energia pulita. Il futuro passa da Frascati. Ritroviamo questo titolo che riguarda indirettamente anche la nostra regione perché il reattore per la fusione nucleare si farà a Frascati questo impianto. Business da 2 miliardi. Energia pulita. Il futuro passa da Frascati. Terzo posto in questa classifica redatta da Lenea per l'Abruzzo. Andiamo a vedere anche i titoli che riguardano il manifesto. Consultazioni al via. Governo lontano. Vedete il titolo in alto. E poi il titolo più a centro pagina. Dazzi tuoi. La guerra dei dazzi tra la Cina e gli Stati Uniti. Vedete nella foto i due presidenti del paese del Colosso Asiatico e degli USA. Siamo a Libero da Galileo a Di Maio. Come siamo scesi in basso. Questo è il titolo di apertura del Quotidiano Libero. Il paese che ha dato i Natali a Leonardo da Vinci, Marconi, Meucci, Fermi, Rubbi e Olivetti. Costretto a pendere. Scrive Libero dalle labbra di un ragazzino senza arte né parte. Il segnale drammatico della decadenza italiana. Reagiamo. Scrive in questo articolo il direttore del Quotidiano Libero. Vittorio Feltri. Vediamo anche il Sole 24 Ore. Vedete in alto il titolo che riguarda la sanità. Via al nuovo Maxi Albo per 225 mila professionisti. E poi a centro pagina. Cassa depositi e presidi. Sfida vivendi. Lo Stato tra i soci di Tim. E poi più in basso. Anche in questo caso sul Sole 24 Ore si parla della guerra dei dazzi tra Cina e Stati Uniti. Dazzi la Cina affronta Trump. Vediamo un altro quotidiano. È il mattino di Napoli. Governo si parte tra i diktat, Lega e Movimento 5 Stelle. Oggi sul Colle Salvini e Di Maio con il no a Berlusconi. Si torna al voto. E poi il tempo di Roma in regione Liti per le poltrone ma tornano a 260 vitalizi d'oro. Questo è il titolo che riguarda la politica locale, laziale in questo caso. C'è poi un titolo che riguarda anche, vedete, di spalla consultazioni fumata nera alle porte. Oggi i big al Quirinale. E poi, grazie a Roma, giallorossi puniti oltremisura dal Barcellona che si impone per 4-1 con i giallorossi. Non è andata bene alle due formazioni italiane in Champions League con la sconfitta della Juventus per 3-0 in casa con Real Madrid. È il capitombolo della Roma ieri in casa del Barcellona. Siamo invece alla stampa di Torino. Troppi veti cresce l'ipotesi voto bis. Conti pubblici peggio delle stime. È più difficile rispettare le promesse elettorali. E poi, nelle carceri libiche, vedete questa foto, alla ricerca di un migrante. Viaggio nell'inferno di Tripoli tra uomini costretti a pagare per uscire dai lager e donne alla merce dei miliziani. Vediamo anche il quotidiano La Verità. Il polo del non governo, a mani vuote sul collo, i veti incrociati e il timore di regalare l'opposizione ai rivali. Bloccano 5 Stelle e Lega. E poi, vedete, a centropagina c'è la foto, in primissimo piano, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E c'è questo articolo. Chi sono i cinque consiglieri che sussurrano a Mattarella? Il secolo d'Italia, no ai governicchi. Vedete nella foto in alto la conferenza stampa del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni avute dal partito presieduto proprio dalla Meloni, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Siamo ad avvenire sotto i nostri occhi. Libia, crimini internazionali contro i migranti. La Corte Penale dell'AIA acquisisce il rapporto ONU. E' avvenire l'ultimo quotidiano che prendiamo in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. Possiamo tornare ai quotidiani della nostra regione. Ripartiamo dal centro. Ripartiamo dal capitolo Previdenza e pensioni. Pagina 2. Come lasciare il lavoro cinque anni prima. Si chiama RITA, lo strumento previsto dalla legge di bilancio in vigore dal primo gennaio. Lo alimenta il TFR. E poi in basso, a casa con quota 100, se lavorano tutti, se sale la percentuale degli occupati, si può ridurre l'età pensionabile. E dunque c'è la possibilità, e in questi articoli è spiegato come, andare in pensione in anticipo. Siamo alla questione del terremoto dell'Aquila. Nove anni dopo l'Aquila accende le fiaccole del ricordo. Questa sera il corteo in memoria delle 309 vittime del sisma del 6 aprile del 2009. Il sindaco Biondi proclama il lutto cittadino. E vedete più in basso, a onna, libri e mostre, per non dimenticare. In basso si parla, cambiando argomento, delle partecipate regionali. Cento posti in ebilico. CGL e Cisluilli incontrano D'Alfonso e Paolucci. E dicono no ai tagli. Vanno tutelati i lavoratori. Saltiamo le pagine di cronaca nazionale, soprattutto di politica, che abbiamo visto dai titoli dei quotidiani. Oggi in edicola. Torniamo invece all'argomento che riguarda questo megaprogetto dell'Enea, fusione nucleare. Vedete il titolo. Manoppello perde il superesperimento. L'interporto arriva terzo nella graduatoria Enea, dopo Frascati e Brindisi, per la mancanza della rete a banda ultralarga. D'Alfonso non ci sta. Vedete questo trafiletto a centropagina. Studieremo le carte per valutare, come vi dicevo anche prima, un eventuale ricorso che potrebbe fare la regione Abruzzo. In basso, otto flash mob per fermare le trivelle. Gli ambientalisti protestano contro la ricerca con l'airgun in Adriatico. Una tecnica, dicono, molto dannosa. Siamo alle pagine di Pescara del quotidiano Il Centro. Torniamo alla tragedia di Rigopiano, perché sono in arrivo una pioggia di denunce per i turisti del dolore. Pasquetta tra le macerie del resort. Parte l'inchiesta per violazione dei sigilli. E poi i familiari delle vittime. Attenzione all'assalto quando passerà il Giro d'Italia. Lo chiedono e lo dicono proprio i familiari delle 29 vittime. Il presidente del portavoce del comitato vittime, Gianluca Tanda, chiede aiuto ai farindolesi per vigilare proprio sulle aree dove si trovano le macerie dell'altel resort di Rigopiano. Allora possiamo andare a vedere a questo punto il primo servizio di mattino 6 di oggi, giovedì 5 aprile. Primo servizio che è stato curato dal nostro Stefano Recanati, proprio nei pressi del resort di Rigopiano, proprio per fare il punto su quanto accaduto nei giorni scorsi con questi turisti del Macabro che hanno visitato proprio le zone dell'hotel, di quel che resta dell'hotel di Rigopiano. Vediamo. Sono da poco terminate le festività pasquali. Pasqua che per i fedeli dovrebbe significare pace, riconciliazione, preghiera, speranza. Invece non è stato così. Perché? Perché lunedì nella consueta gita fuori porta in tanti sono venuti qui su quello che resta dell'hotel Rigopiano, ma non per una preghiera, ma per fare dei picnic, per fare dei barbecue. E questo ha dato fastidio a tanti. Nelle parole del sindaco Lachetta, di Nicola Colangeli, tutta la rabbia, tutta l'indignazione per quello che è successo. In un luogo in cui hanno perso la vita 29 persone, occorrerebbe soltanto silenzio, preghiera e rispetto. Questo purtroppo per l'ennesima volta è venuto meno, quindi spieghiamo semplicemente che le forze dell'ordine riescono a monitorare quel sito con il dovuto rispetto. Un sito che è pericoloso perché comunque ci sono elementi che possono determinare i rischi per le persone, ma soprattutto è un luogo in cui bisogna solo pregare e non visitare per il turismo del magabro. Ci voleva una sorveglianza, per cui si sapeva che la Pasquetta, la gente, la curiosità, ci stavano addirittura della gente che venivano da Foggia, da tutte le parti d'Italia, sono arrivati qua per vedere questa grande disgrazia che è successo. Siamo riusciti perché avevo detto che si doveva fare prima Pasqua, con quel tipo di recinto che c'era prima, con il vento, con la cosa, non è da tenere in montagna. Si sta sistemando, speriamo che la gente non possa più entrare. Come vedete lì in fondo continuano i lavori di bonifica della zona ridosso dell'hotel Rigopiano per riportare alla luce degli oggetti, degli oggetti preziosi da riconsegnare ai parenti delle vittime di questa tragedia. Che siano veloci per togliere quanto prima quello che ormai è diventato semplicemente un attrattore per questo turismo dell'orrido. Un appello alla ditta affinché possa fare tutto con la massima celerità e per ripristinare quello stato dei luoghi per tutta la comunità. Noi abbiamo sotto le macerie ancora la roba dei nostri cari. Io e la mia figlia ho ancora tre valigie, il telefonino non l'abbiamo più trovato, ci sta tanta roba, tanti ricordi, ma purtroppo qua ne portano via pure un pezzo di legname, qualcosa, qualunque cosa trovano, portano via come souvenir, ma che souvenir vogliono portare via? Questo c'è solo da pregare. Cambiamo argomento, siamo a Pescara, via gli abusivi dalle case o occupiamo la prefettura, la protesta di 100 residenti degli alloggi popolari di via Passo della Portella. Rivolgiamo un borgo sicuro, chiedono i residenti. E il nucleo antidegrado dei vigili sequestra droga, controlli di Pasqua, elevate 14 multe. Siamo sempre a Pescara, area di risulta, la Commercio presenta il suo piano, il progetto del parcheggio multipiano e critica invece al progetto del Comune di Pescara. Questa mattina ci sarà una conferenza stampa. Intanto il dopolavoro non cambia sede, tramontata l'ipotesi del trasloco in via De Gasperi, 1.500 soci tirano un sospiro di sollievo. E sempre a Pescara, aiuole aureverdi via lo sfalcio sulla riviera Nord. Proseguiamo, andiamo a vedere una nuova pagina del Quotidiano Il Centro. Eccola qui, si parla di autismo, perché quella in corso è la settimana dell'autismo nella nostra regione, una battaglia per i genitori coraggiosi. In questa pagina c'è la testimonianza di Alessandra Portinari, che guida l'ANGSA, associazione che sostiene le famiglie con persone colpite d'autismo. Alessandra Portinari, che tra l'altro avevamo ascoltato, avevamo proposto una sua intervista proprio nella conferenza stampa, nella presentazione della conferenza stampa sulla settimana dell'autismo in Abruzzo. Tante le iniziative portate avanti in questi giorni. Siamo ancora a Pescara, la cronaca, morta in casa da giorni, i vicini lanciano l'allarme, è accaduto in via di sotto. E poi invece, dopo tre anni, siamo alle vicende dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, dopo tre anni, Mattoscio lascia la presidenza della saga. Vedete questo titolo di spalla. Gli eventi in città, ancora siamo nel capoluogo adriatico, dove tra qualche giorno ci sarà il Festival dell'Oriente, tra Mantra e Giardini Zen, e il Festival dell'Oriente, Danza del Leone, e l'antichissimo rituale del tè, spiegato dai maestri giapponesi. E poi l'Indy Rocket al Parco di Cocco, artisti indipendenti, protagonisti della Rassegna, sempre a Pescara, in questo caso a Parco di Cocco, nella zona sud della città, non lontano dallo stadio adriatico. Siamo invece a Montesilvano, a Montesilvano, dove si parla di lotta alla crisi, riqualificare il centro per salvare il commercio, apertura di piazza Diaz al traffico, nuove insegne e cura dell'arredo urbano, le proposte a costo zero delle associazioni e le critiche dei negozianti, crisi che morde il commercio. Anche a Montesilvano, dove è stata sfiorata ieri la tragedia, si lancia infatti sui binari al passaggio del treno, indagini in corso a Montesilvano per identificare l'uomo che ha rischiato la vita, è stato ripreso da un 16enne con il cellulare. E poi, cambiando argomento, città Sant'Angelo, un convegno sulla videocapsula endocoscopica. E poi, ancora a Montesilvano, ancora la cronaca, in questo caso furto notturno al bar, svuotata la cassa. Da Montesilvano ci spostiamo a Pianella, nasce una casa funeraria, sorgerà accanto al cimitero, sarà dotata di una sala per le autopsie. Proseguiamo, siamo nell'area metropolitana di Pescara, in questo caso a Francavilla, tassa di soggiorno, no di opposizione commercianti, del Ciotto, Antonio del Ciotto dice, ignorate le organizzazioni di categoria, Mantini, il Comune riduca le spese, invece di tartassare. Ieri a tal proposito vi avevamo proposto proprio un'intervista su questo argomento al sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. La Juve perde, ubriaco picchia un carabiniere, è stato arrestato e ha patteggiato otto mesi, e poi c'è pagati, vasche sul fiume, fissato il programma dei lavori. E poi la tragedia di due giorni fa a Francavilla, morto di infarto a 25 anni, questa mattina si terranno i funerali di Mattia. Siamo alla pagina dell'area Vestina e della Val Pescara, Penne oggi ne consiglio, le grandi incompiute, il Movimento 5 Stelle riapre il dibattito sulle strutture pubbliche abbandonate, Falconetti riqualificare, dice o abbattere l'ex carcere, il mattatoio e le terme. Siamo a Manopello, vedete l'articolo di spalla, sulla destra, lavori sulla strada 539, diffidata la provincia. in basso a Penne, ancora donati attrezzi alla palestra del Marconi, Penne i 3.000 euro delle assicurazioni generali utilizzate per acquistare ciclette e tapirulano. Siamo alla pagina di Chieti, del centro, presunti abusi su piccoli atleti, sotto sequestro, la casa dell'allenatore. E poi in basso, addio a Rutolo, per 30 anni, ha sfornato le prelibatezze, storica ristoratrice di Chieti. E poi città in lutto per la morte improvvisa di Marco Lattanzio, scomparso a 54 anni. Andiamo a vedere un'altra pagina del centro. Sempre siamo a Chieti, in questo caso si parla della cassa di riposo in crisi, ex IPAB, via ai solleciti, contro i comuni morosi. La Regione è pronta a inviare gli atti alle amministrazioni che non pagano. L'assessore Sclocco abbiamo erogato tutti i fondi da tre mesi. Ora basta. E poi, campo ai privati. Esposto alla Corte dei Conti, Chieti e il Comune avrebbero dovuto incassare 12.000 euro, ma ne ha spesi già 9.000 per gli avvocati. E questa iniziativa è del consigliere comunale Maurizio Costa di Forza Italia. E poi siamo a Scerni, nel Vastese. Malore mentre guida, si schianta e muore, vedete l'articolo in basso, con la tragica fine di quest'uomo colpito da Malore mentre era alla guida della sua auto. Siamo ad Ortona, sempre nel Chietino, multa stradale da 3.000 euro, mai stati con l'auto ad Ortona, assicurazione scaduta, cartella esattoriale pesante per padre e figlio. E poi ancora Ortona, bimbo conteso, la madre deve stare lontana, 300 metri, dopo la lite con l'ex marito. E poi in basso, Canosa-Sannita, nuovo piano regolatore, sconti sulla Bucalossi. Infine, Fossa-Cesi ha concorso un libro da mare per legare i bimbi. Alla lettura, siamo a Teramo, siamo a Teramo per parlare delle imminenti elezioni verso il voto in comune. ieri è arrivato l'ennesimo e probabilmente ultimo no di Luciano D'Amico al Partito Democratico. Vedete il titolo di apertura, D'Amico resiste all'ultima tentazione PD, il Rettore incontra gli ex consiglieri, ma declina l'invito a candidarsi sindaco, pronto a dare il mio contributo, ha detto, da cittadino. È stato avvicinato il Rettore D'Amico dalla nostra Tania Bonnici-Castelli. Andiamo a vedere il servizio. È mia intenzione fare ancora tanto per Teramo, come Rettore fino a ottobre e poi come cittadino, ma non come sindaco. È un altro no quello che Luciano D'Amico ripete anche oggi al Partito Democratico Teramano, che lo vorrebbe in corsa come primo cittadino. La mia risposta è nell'interesse davvero della città e nel rispetto degli impegni che ho assunto qui all'Università il mandato scadrà solo il 31 ottobre e altri impegni già assunti la mia risposta è di grande gratitudine ma di indisponibilità. Di indisponibilità che ho ribadito nel corso diciamo degli ultimi quattro anni. Mi dispiace che dall'inizio del mandato ogni progetto presentato come Rettore e come Università a volte veniva letto come finalizzato a vidi carriere politiche. Come dicevo allora, quattro anni fa, cinque anni fa, come ho detto fino all'altro ieri e quindi confermo oggi nessuna strumentalizzazione. Tutti i progetti realizzati con l'Università avevano come unico obiettivo quello di dotare l'Ateneo delle strutture adeguate e di fare in questo modo il bene della città. Io sono convinto che si possa servire a una città quella di Teramo che amo profondamente e a cui sono debitore di un'accoglienza straordinaria e di tanti altri progetti condivisi sono convinto che si possa lavorare per il bene di questa città anche dal momento ancora da Rettore oggi firmerò il bando per il manicomio e poi da cittadino. Il nodi da amico getta nel panico il centro-sinistra Teramano e anche gli schieramenti civici di Dalberto e Cavallari che divisi non avrebbero alcuna speranza di arrivare nemmeno al ballottaggio. bisognerà ricominciare tutto da capo per essere competitivi contro il candidato sindaco del centro-destra Gian Donato Morra e quello grillino Cristiano Rocchetti e non si esclude che si torni a considerare la prima opzione di peso quella del presidente della provincia Renzo Di Sabatino sempre però se unitaria. In casa centro-destra ne parlava anche Tania Bonnici-Castelli nel servizio c'è questa candidatura di Gian Donato Morra ma slitta proprio la sua designazione infatti la Lega prende ancora tempo vedete il titolo di fianco in basso idemma la prova dell'alleanza invitati sindaci ed ex NCD convocato per oggi il tavolo politico con partiti e gruppi civici vedete l'articolo in basso cambiando argomento la stagione sciistica volge al termine nella nostra regione Prati di Tivo si chiude domenica e a metà aprile la Gran Sasso deciderà sulla gestione estiva degli impianti siamo alla pagina della provincia di Teramo il titolo principale riguarda la cronaca tenta l'estorsione ad un pizzaiolo arrestato latitante albanese poi in alto sorpreso a rubare in una villetta fermato e poi Martinsicuro con il coltello al Conad due in carcere poi la cronaca giudiziaria rapinò 30 euro con il coltello condannato a tre anni in basso a tentato di Silvi entrano le intercettazioni via le trascrizioni nel processo per il tentato omicidio del direttore della motorizzazione di Chieti e poi questa notizia che arriva invece da Nereto anziana vaga in strada dopo la morte del marito proseguiamo siamo ancora alla pagina della provincia di Teramo a Pineto ancora cronaca in primo piano violenta e pesta la compagna arrestato sempre Pineto oltre mille visitatori alla torre di Cerrano vedete il titolo di fianco poi spostandoci nella parte bassa erosione i fondi non bastano Pineto l'opposizione interroga la giunta operatori turistici e commercianti delibera regionale inadeguata dicono siamo a Roseto strade ridotte a pezzi protesta degli albergatori in via Marina e via Colombo marciapiedi distrutti e parcheggi invasi dal fango l'assessore Petrini non possiamo intervenire subito ma studiamo un progetto ancora Roseto lavori per salvare le palme dal punteruolo rosso e poi pedalata degli ambientalisti contro il progetto del gasdotto lunedì sul lungomare di Roseto e poi Colonia vedete gli incivili di Pasqua rifiuti abbandonati vedete la foto a ridosso della ferrovia in basso ancora Roseto degli Abruzzi scoperta rete per la pesca di frotto alla foce del Tordino usata per la cattura delle seppie proseguiamo siamo alla pagina dell'Aquila del centro si smettasse da restituire la città sfila con le imprese manifestazione il 16 aprile corteo dalla fontana luminosa fino in centro a Pescara 160 milioni a noi solo briciole il capogruppo comunale di Fratelli d'Italia De Matteis lancia accuse al presidente della regione Luciano D'Alfonso vedete il titolo in basso con la foto del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giorgio De Matteis proseguiamo ancora l'Aquila ad esca minorenni sul bus condannato arrivata la sentenza e poi carambola tra auto nel territorio di Barete tre feriti ricovirati al San Salvatore dell'Aquila e poi assenze ingiustificate medico nei guai il PM contabile imputa un danno erariale di 76 mila euro ma la difesa rigetta ogni contestazione e poi massa d'albe tragedia sfiorata imprenditore si ferisce con la pistola siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo fermarci per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 siamo di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 avevamo esaurito la lettura delle pagine del quotidiano il centro siamo al messaggero la cronaca regionale si parla di economia fuori dal tunnel oltre 70 imprese pronte a puntare sulla fuga dalla crisi è arrivato un primo contributo dell'Unione Europea per utilizzare le risorse del territorio si tratta ora di aggiudicarsi un bando da ben 15 milioni andiamo a centropagina in vigore la legge Madia rischio 100 posti negli enti della regione e poi in basso la staffetta vedete il titolo tra D'Alfonso e Lolli diventa un rebus cambiamenti in corsa alla guida della regione Abruzzo siamo a Pescara Raidin comune niente immagini fuori uso la telecamera puntata sull'ingresso utilizzato per l'intrusione all'interno di palazzo di città e poi Acerbo boccia l'idea McDonald da Guerino una scelta di cattivo gusto e poi in basso Polizia Municipale in azione antidroga controlli più rigorosi sotto le feste Pasquali e poi dramma della solitudine ai colli mora in casa trovata tre giorni dopo proseguiamo siamo alla pagina ancora di Pescara Teatro Michetti Rescisso il contratto la De Cesare esce di scena da appaltare ora il secondo e terzo l'otto Arti Marziali Ikebana e Taimal da domani il Festival dell'Oriente a Pescara e da Pescara ci spostiamo a Montesilvano il folle gioco di lanciarsi sotto il treno prova di coraggio caccia l'autore delle giovane che sarà denunciato dai carabinieri immagini shock registrate da un telefonino appenne tassa su rifiuti con lo sconto per le aziende che assumono over 50 e poi ancora in basso farina del mio sacco primo cd e titolo obbligatorio per il Grand Il Free musica nuova il gruppo formato da tre amici musicisti freschi di studi al conservatorio sabato ci sarà il lancio di questo cd tornando alla cronaca Montesilvano svaliggiata la cassa del bingo Orione poi a Francavilla automobilista ubriaco picchia un carabiniere siamo all'Aquila un corteo per bloccare la restituzione delle tasse l'Aquila non ha la possibilità economica di versare 100 milioni di euro all'Europa il 16 aprile una manifestazione nei pressi della fontana luminosa e poi la vertenza vedete di fianco Accordo Fenix e i sindacati raggiungono un'intesa e poi l'accordo dall'altra parte della pagina sempre di spalla le procure collegate al comune da tutto l'Abruzzo e poi in basso un anno di carcere per le botte che ha dato al fratello ubriaco dopo una lite e poi ombre sulla sanità doppio lavoro indagato Rodolfo Fanini secondo la Corte dei Conti il medico offriva le sue prestazioni al San Salvatore e ad un altro ente siamo alla pagina relativa alla commemorazione al ricordo delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 l'università collante della ripresa sociale si parla in questa pagina delle iniziative che si terranno per ricordare la tragedia del 2009 vedete poi in basso è la notte della fiaccolata ma bisogna andare oltre proseguiamo siamo alla pagina di Avezzano Sulmona grave giovane dopo sparo al poligono sfiorata la tragedia nell'impianto di Castelnuovo ferito un ragazzo di 23 anni per un colpo accidentale Avezzano anziana picchiata in casa aggressore a giudizio e poi in basso Sulmona gasdotto Snam va avanti i sindaci chiedono lo stop ancora nella città Peligna vendita dei lotti per creare sviluppo tornando invece nella Marsica ed Avezzano è nel pernovero la bolletta è di 50 questo è l'articolo che leggiamo sempre dalla pagina del messaggero e poi cese il comune benedice la via del latte andiamo alla pagina di Chieti del messaggero Campo Sant'Anna finisce in procura il bando dei veleni esposto del consigliere Azzurro Costa per l'affidamento dell'impianto il comune ha già speso oltre 8.000 euro e poi una domenica con la Caritas per la festa dei popoli e poi sotto sequestro i beni dell'allenatore accusato di abusi su giovani atleti in basso il caso Asl la mensa non va i sindacati vanno all'attacco e poi 50 sfumature dei monti d'Abruzzo questo il libro di Bruno di Crescenzo che verrà presentato Caseater lavori per oltre un milione siamo a Lanciano il finanziamento della regione consente anche di restaurare tre edifici del primo novecento ancora Lanciano bulgaro a giudizio per un ricatto gay invece ci spostiamo a Scerni colto da malore si schianta con l'auto e muore vittima un 51enne vasto bilancio e nuove assunzioni trenzione tra CGL e Cerella e poi a Dortona Dragaggio del Porto oggi il progetto torna all'esame del tavolo regionale infine di nuovo Lanciano il sindaco Pupillo cabina di regia per le manifestazioni questo è il titolo in basso lasciamo la pagina della provincia di Chieti ci spostiamo a Teramo Gammarana non più isolata un passo indietro dei binari riunite in questo modo le zone isolate poi sorvegliate dalle nuove telecamere la cronaca rapinano il supermercato con pistola e coltello presi e poi recupero dell'ex manicomio il rettore Luciano D'Amico presenta il bando ma dice no alla candidatura da sindaco e poi ancora la cronaca ricercato chiede 3.800 euro di pizzo ma trova i carabinieri e poi in basso si parla della Teramo Ambiente profondo rosso 3 milioni dal comune questo l'articolo di fondopagina di pagina 46 del messaggero siamo alla cronaca della provincia di Teramo la violenta e poi vedete il titolo in alto e poi le buca un polmone è accaduto a Pineto un quarantenne il protagonista di questa triste storia già con un foglio di via da Teramo per le botte all'ex moglie è stato arrestato e portato nel carcere di Castronio a Teramo sbalzato dal trattore ferito agricoltore 48enne vedete la foto a centropagina e poi Giulia Nova amministratore licenzia i soci il giudice li reintegra ancora Giulia Nova finiti i soldi chiusa la biblioteca di via Nievo in basso alba adriatica l'ex cinema Aurora rinasce con i volti di Charlie Chaplin e dei Blues Brothers e poi i quintali di Marihuana gang sgominata in manette anche tre persone di Martin Sicuro siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere invece le pagine interne del quotidiano la città partiamo da pagina tre cronaca regionale tutti in piazza siamo all'Aquila contro la restituzione delle tasse fissata per il 16 aprile la manifestazione contro la decisione dell'Europa sul post-sisma e poi i dati del CNA nessun beneficio dalla ricostruzione il magnifico non sarà tra i candidati sindaci abbiamo appena ascoltato l'intervista di Tania Bonnici Castelli a Luciano D'Amico e poi in basso stasera l'ultima occasione per costruire un centro-sinistra la coalizione difficile compito affidato al segretario Minosse ad Alberto Cavallari Tancredi Sinistra e Arci la Lega congela la candidatura di Giandonato Morra i salviniani chiedono 48 ore di tempo per riferire la situazione ai vertici romani e decidere se appoggiarlo e intanto Abruzzo Civico osserva il centro-sinistra alla finestra Zippilli Noelucidi scuola esempio alle materne il modello e la prosecuzione del Reggio Children vedete questo articolo con la foto dell'ingresso della scuola Zippilli a Teramo e poi la cronaca siamo a Montorio superlatitante tenta l'estorsione al pizzaiolo Albanese chiede 3.800 euro ad un commerciante di Montorio ma all'appuntamento trova i carabinieri in basso riflessione sull'immigrazione con gli studenti di Isola e Colledara Mazzetta al capo cantoniere filmata dalla finanza al processo per concussione parla l'imprenditore costretto a versare 500 euro per sbloccare una pratica andiamo ancora avanti siamo a Pineto sempre in provincia di Teramo il ripascimento mette a rischio le vongole Giovanni Di Mattia del Cogevo pronti dice a bloccare i lavori se le sabbie saranno prelevate troppo vicino alla costa e poi ambiente flash mob contro le trivelle in mare proseguiamo siamo a Castellalto torniamo alla cronaca giudiziaria tre anni di pena per la rapina da 30 euro Martinsicuro il comune incontra i commercianti Truentini operazione Green siamo in questo caso all'operazione che ha sgominato un'organizzazione che faceva arrivare droga dall'Albania cinque arresti a Martinsicuro sequestrati 171 kg di erbai in due accusati anche di furti nelle case inagibili dei paesi colpiti dal sisma questo il titolo con articolo a pagina 11 quest'operazione dei carabinieri e intanto a Martinsicuro presa la banda della rapina al Conad in basso Nereto vagava in stato confusionale per la morte del marito trovata in piena notte dai carabinieri a casa il corpo dell'uomo morto per malore siamo alla pagina di Giulia Nova di Carlo critica perché vuole candidarsi il sindaco Francesco Mastromauro contrattacca il presidente della consulta sul turismo Giuliese e poi cronaca ladro sorpreso dai carabinieri mentre ripulisce una billetta ancora Giulia Nova rischio il consultorio l'allarme del sindaco rischia di diventare una struttura fantasma e al via da domenica cambiando argomento i festeggiamenti sempre a Giulia Nova per la Madonna dello splendore picchiata e violentata dal compagno ubriaco accaduto a Pineto dopo una notte da incubo riesce a fuggire per raggiungere l'ospedale e lo fa arrestare Roseto incidente di Pasquetta la destra sociale chiede di attivare il progetto sicurezza in basso tornando a Pineto mille visitatori all'ombra della torre durante le feste pasquali siamo di nuovo a Roseto degli Abruzzi la politica Norante rompe il silenzio per unire il centrodestra l'esponente forzista chiama a raccolta tutti gli interlocutori in vista dei prossimi appuntamenti in basso nuovo incidente a Roseto per le strade Colabrodo Petrini pronto per gli interventi l'assessore risponde alle critiche di Fratelli d'Italia siamo alla pagina della cultura da Pasolini a Serra parole a tutto campo torniamo al centro per aprire la pagina dello sport sport nazionale in questo caso Champions League una buona Roma ma due autogolle e l'arbitro lanciano il Barcellona vedete Barcellona-Roma 4-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League e il mondo celebra Ronaldo Il Marziano dopo il gol in rovesciata nella gara con la Juventus ma quella di ieri è stata anche la giornata dei recuperi alcuni recuperi della 27esima giornata di Serie A c'è più Inter che Milan ma i Cardi spreca troppo soprattutto al 92esimo errore clamoroso dell'attaccante Nerazzurro il derby finisce 0-0 vediamo anche gli altri risultati delle gare giocate ieri Torino batte Crotone 4-1 Chievo e Sassuolo 1-1 Benevento è la Sverona 3-0 siamo alla pagina relativa al Pescara sabato ci sarà il debutto al Barbera del nuovo tecnico biancazzurro Pilon nel 2014 vinse a Palermo provaci ancora Pilon questo è il titolo del centro 4 anni fa il suo Carpi fece il colpaccio e Di Bala sbagliò oggi giocatore della Juventus un calcio di rigore Coronado dietro a Nestoroschi e Lagumina e Rosanero forse tornano al 3-4 1-2 e intanto domani verrà presentato il nuovo tecnico biancazzurro in occasione della conferenza stampa prepartita siamo alla Serie C Speranza lancia il Teramo col Renate un bivio decisivo dice il capitano biancorosso che suona la carica in vista della gara di domenica e poi la Serie D De Angelis Avezzano nel cuore ma devo batterti il DS del San Nicolò per 9 anni in bianco verde bisogna vincere dice per la salvezza in basso il rugby rugby di Serie A l'Aquila decimata contro il Lions Piacenza e siamo ai recuperi del campionato di Serie D con la vittoria per 4-1 dell'Aquila sul campo basso l'Aquila cale il poker e aggancia la zona playoff è andata bene anche al Pineto che vince per 3-1 in casa del Fabriano Cerreto in classifica l'Aquila si porta davvero ai margini della zona playoff sale anche il Pineto vediamo anche le pagine dello sport del messaggero D'Agostino cuore diviso a metà il grande doppio ex di Pescara e Palermo Pillon la mission non lo spaventerà dice l'ex Biancazzurro e intanto Pillon prova cocco al centro del Tridente in vista della gara di sabato a Palermo e poi Teramo partita della vita con il Renate lo dice il capitano Speranza vediamo anche come il quotidiano la città parla del Teramo diavolo il capitano suona la carica giocare concentrati come nelle ultime partite per raggiungere la salvezza e poi come detto ieri due recuperi Pineto Corsaro con il Frabiano siamo ovviamente in Serie D vittoria in trasferta per 3 a 1 4 a 1 invece dell'Aquila con il Campobasso andiamo a vedere ecco qui la pagina che riguarda i recuperi di Serie D l'Aquila un poker da playoff battuto il Campobasso tutto fatto nei primi 45 minuti doppietta di De Julis poi Ibe e Sieno a segno per la formazione di Mister Battistini allora possiamo andare a vedere il servizio relativo al poker dell'Aquila sul Campobasso l'Aquila calcio vince e convince battendo per 4 a 1 il Campobasso e ottenendo il quinto posto in classifica in coabitazione con il San Marino nell'ultima posizione utile della lista per disputare i playoff una partita impeccabile per l'Aquila con un'unica nota stonata l'infortunio di Boldrini costretto a uscire dal campo al quindicesimo del primo tempo si spera che per l'attaccante rosso-blu non si tratti di uno stiramento e che possa essere disponibile per domenica 8 marzo quando l'Aquila ospiterà la capolista matelica l'Aquila va all'obiettivo già nei primi minuti in casacca bianca dato che il Campobasso veste i colori rosso-blu si porta in vantaggio sugli sviluppi del primo calcio d'angolo conquistato al terzo minuto la difesa molisana interviene maldestramente e ne approfitta De Julis per insaccare l'estremo difensore Riccio ed è 1-0 il raddoppio Aquilano arriva alla mezz'ora ancora per difetto di difesa approfittando del malinteso tra Riccio e il difensore Capozzi padroneggia la sfera Ibe che deve solo appoggiare nella porta rimasta sguarnita la terza rete dei ragazzi di Mister Battistini arriva al 36esimo sul rigore calciato da De Julis che così firma la sua doppietta il penalty è stato concesso dall'arbitro per fallo di mano di Marzano mentre era in barriera nella ripresa il campo basso si fa più minaccioso e riesce ad accorciare le distanze al 25esimo con la rete di Gomez che di testa sfrutta al meglio un calcio d'angolo battuto da Gerardi ma l'Aquila non sta a guardare e realizza il poker di reti al 40esimo con Di Paolo che serve un delizioso assist a Sieno che trafigge il riccio sul secondo palo e questo è il servizio di Germana Dorazio sulla vittoria dell'Aquila sul campo basso altra vittoria per il Pineto nel recupero di ieri vedete il titolo l'articolo del quotidiano il messaggero vittoria importante una vittoria determinante per continuare a sperare nei playoff allora possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio e le immagini sulla vittoria dei Biancazzurri in terra marchigiana il Pineto espugna lo stadio Aghetoni di Fabriano per 3 a 1 e si porta ad un solo punto dai playoff prova maiuscola per la squadra di Amaolo che ha accelerato nel secondo tempo aggiudicandosi l'intera posta dimenticato il bruciante stop casalingo con i nero stellati grazie ai sette punti collezionati nelle ultime tre gare la sconfitta d'altro canto inguaia quasi definitivamente il Fabriano Cerreto che non si avvicina al terzo ultimo posto e la retrocessione è dietro l'angolo rispetto alla gara vinta sull'agnonese il tecnico pinetese Amaolo è privo di Pepe e lascia in panchina Mariani e Cercelluti al loro posto Orlando di Rocco ed Esposito confermata la coppia d'attacco Tomassini Gragnoli sul fronte opposto squalificato Farò l'allenatore Francesco Monaco ritrova Peronullo in avanti a far coppia con Zuppardo la prima parte di gara scivola via senza grandi sussulti e sul filo dell'equilibrio nella ripresa però bastano 9 minuti al team di Amaolo per portarsi in vantaggio la firma è quella di Gragnoli la reazione del Fabriano Cerreto passa per la mossa di Monaco che inserisce Pier Gallini il quale poco dopo al ventottesimo ripristina la parità 1 a 1 il segno X non serve granché ad entrambe nel finale il colpo di Reni risolutore è quello del Pineto che piazza l'1-2 decisivo anche Amaolo indovina la mossa giusta dalla panchina e Farias al quarantunesimo rimanda in vantaggio gli Adriatici 1 a 2 in pieno recupero è invece Esposito a chiudere definitivamente i conti calando il Tris la corsa playoff del Pineto dunque prosegue con la trasferta di Campobasso di domenica prossima per il Fabriano sarà invece ultima spiaggia con il Monticelli una partita importantissima dove entrambe le squadre volevano i tre punti perché il pareggio penso non serviva a nessuno noi l'abbiamo interpretata bene passando in vantaggio poi forse ci siamo passati un po' troppo abbiamo difeso un po' troppo dentro l'area di rigore è venuto il pareggio Fabriano però la squadra voleva a tutti i costi la vittoria i cambi effettuati sono stati importanti sono entrati giocatori con il Pio giusto e questo ci ha permesso di raggiungere la vittoria e che in questo momento del campionato è una vittoria fondamentale per aspirare a provare a cercare l'obiettivo dei pre-off gli episodi oggi ci sono stati contrari però direi che nel primo tempo a parte come dicevo prima i primi dieci minuti dopo abbiamo iniziato a giocare dopo anche se siamo andati sotto la squadra ha reagito ha trovato il pareggio cioè ha cercato in tutti i modi di ribaltare questa situazione purtroppo dopo il secondo gol secondo me ci ha ammazzato perché era il momento migliore nostro è lì che abbiamo fatto la frittata lasciando la serie D passando invece al campionato di eccellenza la Coppa Italia Real Giulianova vedete il titolo in alto remuntata a metà vince 2 a 0 ma passa il Pomezia che si era imposto invece per 3 a 0 nella gara di andata Giulianova che però pensa ovviamente al campionato perché in caso di vittoria con il Cupello domenica prossima sarà promozione in serie D e siamo poi alla mezza pagina del calcio Wisp come di consueto ogni giovedì sul messaggero c'erano 4 squadre e 2 portiere di un bomber finita la fase a Gironi si celebrano i verdetti dei campionati di calcio provinciali Wisp di Pescara a cominciare con le Final 8 con la Coppa Wisp con l'Over 40 chiudiamo con le prime pagine invece dei quotidiani sportivi partiamo dalla gazzetta dello sport Icardi si mangia il derby San Siro il recupero finisce 0 a 0 Maurito tradisce l'Inter divorandosi due gol praticamente fatti in alto il titolo che è davvero emblematico Spagna-Italia 7 a 1 i 4 gol del Barcellona ieri alla Roma i 3 del Real Madrid alla Juventus l'unica rete segnata dalla Roma nella gara con i Blaugrana è davvero è stata quasi una disfatta per le due formazioni italiane contro le due spagnole davvero un distacco ancora grande di valori tra le squadre molte squadre europee e le squadre italiane in cubo spagnolo vedete lo stesso tenore nel titolo del Corriere dello Sport dopo il Capo Juve con il Real la Roma cade sotto i colpi del Barcellona 4 a 1 Di Francesco recrimina negati due rigori e poi in alto Monaco-Sussari offerta shock da 6 milioni a stagione ma lui ora pensa solo allo scudetto del Napoli e poi vedete Milan-Inter 0 a 0 Maurito ma che ti sei mangiato errori clamorosi dell'attaccante nero-azzurro e chiudiamo con tutto sport con l'Aic Supergallo Torino altri 4 gol ieri nel recupero 4 a 1 con il Crotone in alto vedete il titolo sulla sconfitta della Roma che si autoaffonda in casa del Barcellone e poi la rabbia dopo il Real Juve Scudetto e Rifondazione scrive il quotidiano torinese infine derby senza reti i Cardi grazie al Milan Gattuso resta a meno 8 da Champions e l'Inter che comunque mantiene un sostanziale e consistente vantaggio sui cugini rossoneri siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di giovedì 5 aprile con Mattino 6 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo che Mattino 6 tornerà domani puntuale alle 8 mentre alle 14 vi invito a seguire la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.